Le fabbriche chiusero e gli operai scesero in strada e niente riuscì a fermarli, neanche gli spari della polizia. Quasi 50 anni ci dividono da quell'aprile del 69 che ora è al centro del nuovo film di Giuseppe Esposito. Il regista batipagliese trasforma le strade della città in un set per la sua nuova produzione, Batipaia 1969. Il documento in cui verrà ricostruita la rivoluzione in cui persero la vita due battipagliesi. Domenica 18 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 12, i Ciac interesseranno alcune strade aria centipiazza della Repubblica. Il settore tecnico del Comune, ricevuta la richiesta, ha emesso l'ordinanza del divieto di fermata con rimozione coatta dei vericoli dalle ore 7.30 alle 12.00.